Emanuele Antonuzzo, ma in questo libro in cui si parla di Europa, si parlerà anche di Brexit, si parlerà anche dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea? Ma questo è, come dire, la premessa, il saggio che Maurizio Caserta insieme al giornalista Aldo Premio hanno scritto. Solo la premessa, anche a sottolineare, è che per quanto difficile l'uscita del Gran Bretagna dall'Europa creerà degli scompensi, sarebbe stato, secondo la tesi degli autori, più difficoltoso l'uscita della Grecia o per esempio dell'Italia. Per quale motivo la Grecia? Ma quello è un problema legato alla circolazione monetaria, per cui sia la Grecia che eventualmente l'Italia o altri paesi del sud Europa, che in questo momento sono in difficoltà, sono nell'Eurozone, quindi gli squilibri monetari sarebbero stati ovviamente molto più pesanti rispetto al Regno Unito che non ha, come sappiamo, l'Euro, insomma. Ma nel libro emerge un'economia scadente, c'è una prospettiva pessimistica oppure alla fine il lettore legge qualcosa di ottimistico? No, il libro, anzitutto dobbiamo specificare che questo libro, anche nel titolo Mediterraneo Sicilia Europa, in realtà è un progetto a cui il professore Caserta ha dato anche il suo nome, infatti l'associazione che poi è successivamente nata, si chiama Mediterraneo Sicilia Europa, progetto Maurizio Caserta, che sta un po' portando in giro, si è rappresentato oggi a Gela, domani, venerdì prossimo a Siracusa e poi in altri posti. È un progetto che c'entra molto la sua analisi sul Mediterraneo e in particolare sulla Sicilia, facendo un'analisi delle crisi e delle problematiche purtroppo atapiche della nostra isola, ma anche delle potenzialità e delle possibilità di sviluppo, centrando su un punto che l'Europa si salva, comunque dovrà essere spinta, e questo sembra quasi un paradosso, dal sud, dal Mediterraneo, dalla Sicilia, facendo del problema dell'immigrazione, quello che solitamente viene chiamato il problema dell'immigrazione, una risorsa fondamentale. Non fosse altro che la media dell'età europea e dell'età della popolazione italiana è molto alta e quindi avremmo necessariamente bisogno nei prossimi decenni di immigrazione e di integrazione, altrimenti ovviamente salterà tutto il sistema.